Ragazzi prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che abbiamo ripreso le giveaway dove regaliamo criptovalute gratis e quindi ogni lunedì annunceremo un nuovo vincitore della giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E voglio anche ringraziare tutte e quante le persone che si sono iscritte al canale e se siete nuovi e potreste considerare l'iscrizione se non l'avete già fatto sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille e buona fortuna a tutti per la giveaway e adesso cominciamo con il video. Le prossime 72 euro saranno assolutamente vitali sia per i mercati delle criptovalute che per i mercati tradizionali e quindi oggi ragazzi vi mostrano tutto ciò che dovete sapere proprio adesso e a cosa dovete fare attenzione e come affrontare appunto questa situazione e tutto quanto il resto che dovete sapere. E come sempre ragazzi bentornati a tutti mi chiamo Marco portano video riguardo le cripto ogni giorno mostrando come fare solo in questo tipo di mercato e ragazzi non dimenticate che se volete dedicarvi a tempo pieno alle cripto e lavorare come creatore di contenuti solo in lingua inglese per il secondo canale di Satoshi Stoker assicuratevi di fare domande autorizzando il link in descrizione e quindi assicuratevi di farlo se siete interessati a lavorare a tempo pieno nel settore delle cripto e come creatore di contenuti ovviamente otterrete tutto quanto l'aiuto di cui avete bisogno per imparare. E detto questo ragazzi entriamo direttamente sui nostri grafici di Bitcoin perché quello che possiamo vedere è che la linea rossa ha cercato di sostenerci per diverse volte nel grafico da 4 ore però adesso ci è supportato per un totale di 4 volte in questa particolare candela in cui ci troviamo adesso e questo è al di sotto della linea rossa proprio ora ma vedremo se riusciremo insomma a fare un rally sopra questa linea rossa il che sarebbe molto meglio piuttosto che iniziare a chiudere sotto questa resistenza e iniziare ad avere un trend verso il basso per il prezzo di Bitcoin. Malate le attuali circostanze dei mercati direi che la linea rossa ha svolto un ottimo lavoro nel sostenerci finora perché ci ha supportato per ben tre volte e in pratica sta assumendo il peso dell'eventuale potenziale guerra mondiale che potrebbe insomma scoppiare. E quindi il fatto con l'Ucraina e la Russia si è aggravato almeno questo qua è ciò che ci dicono i media e questo si sta diffondendo c'è molta molta incertezza nei mercati per adesso e naturalmente anche i mercati tradizionali sono scesi e quindi voglio anche mostrarvi l'SP500 perché per adesso sta trovando supporto sulla mia ultima linea di supporto molto importante ormai da diverso tempo e quindi questa linea arancione a 4.416 dollari ma adesso se dovessimo scendere la prossima linea sarà appunto ancora più in basso a 4.238 dollari quindi questa linea arancione qua in basso quindi potremo vedere quel calo. E quindi qual è la situazione proprio adesso bene i media riferiscono almeno che Putin ha deciso di invadere l'Ucraina e Biden e Putin avranno l'ultima chiamata proprio oggi era quello che ho capito questa sarà l'ultima chiamata da parte di Biden per cercare di fargli cambiare idea ma tutti quanti questi paesi stanno già dicendo appunto ai cittadini di uscire dall'Ucraina perché le cose si stanno aggravando e stanno insomma per per peggiorare. Naturalmente se ciò accade non sarà un bene per i mercati sia per i mercati delle cripto che per i mercati tradizionali e questo è il motivo per cui stiamo vedendo appunto questo calo in tutti quanti i mercati sia appunto in quelli delle criptovalute e anche nell'SP500 e quindi dobbiamo fare attenzione a questo ragazzi ecco perché le prossime 72 ore saranno appunto estremamente importanti perché se non vediamo qualcosa di positivo allora potreste iniziare anche a vedere Bitcoin scendere verso il basso assieme ai mercati tradizionali. Non sappiamo quanto di questa discesa sia già avvenuta perché sembra probabile che Putin in realtà inizierà ad invadere secondo quanto ci dicono di nuovo i media e quindi dobbiamo monitorare questa situazione e qui appunto padrono anche della mia strategia ma questa qua non è l'unica cosa a cui dobbiamo prestare attenzione proprio adesso perché inoltre lunedì avremo anche una riunione di emergenza da parte della Federal Reserve e quindi voglio anche mostrarvi quell'articolo perché penso che sia molto molto importante anche per le criptovalute e quindi di cosa andranno a parlare? Non lo sappiamo ma è stata etichettata come una riunione di emergenza ed è una riunione appunto non programmata e forse annunceranno che andranno ad aumentare i tassi o medie tassi di interesse anche se in precedenza hanno fatto e detto appunto che l'avrebbero fatto a metà marzo questo vuol dire che potrebbero aumentarli un po' prima. Ma voglio dire sappiamo tutti quanti di questo incontro e siamo già preparati per questo ma vediamo che succederà appunto lunedì e non c'erano qualcosa che non sappiamo e quindi le cose sembrano instabili da questo punto di vista e le cose sembrano anche instabili per quanto riguarda la situazione Russia-Ucraina. I mercati delle cripto sono scesi, il bitcoin è sceso di circa il 3% penso ieri, voglio mostrare appunto le classifiche appunto degli altcoins e di bitcoin perché per il momento le criptovalute non stanno andando così male ma queste informazioni non sono nemmeno così positive. Infatti i cbcon è sceso del 3%, gli altcoins stanno scendendo tra il 5% e il 10% e quindi cosa sto facendo personalmente? Beh non sappiamo cosa verrà fuori da queste situazioni e quindi con questo in mente mi limito a monitorare la situazione e continuerò a vedere cosa accadrà qui e do i soldi appunto pronti in attesa. E se vediamo un grande calo aprirò anche io in posizioni diverse perché credo che una volta che queste informazioni saranno uscite lunedì, allora a martedì avremo una chiarezza su cosa succede. Ma se vediamo una discesa irrazionale in bitcoin andrò sicuramente a cercare di trarre vantaggio perché credo che a lungo termine acquistare bitcoin anche a questi livelli non sia una cattiva idea. E ricordate che con tutti quanti questi aumenti dei tassi anche se non c'erano gli aumenti dei tassi lunedì durante i periodi in cui hanno aumentato i tassi in precedenza nella storia se guardiamo anche ad un orizzonte appunto temporale leggermente più lungo dai 2-5 anni ha sempre portato ad un aumento del prezzo nelle azioni nel tempo. E quindi in altre parole anche se aumentano i tassi se lo storico è un'indicazione di ciò che potrebbe accadere nel futuro di solito il mercato sale effettivamente dopo che aumentano i tassi. Questo qua se guardate appunto un orizzonte temporale più lungo e forse non saliremo subito probabilmente vedremo una certa volatilità ma sicuramente nel tempo ci ha mostrato appunto in precedenza ogni singolo caso a parte solo un caso dove abbiamo continuato ad avere prezzi più alti dopo 1-3 anni. Quindi questo qua è il mio pensiero e questo qua è quello che sto facendo questo è quello che penso vediamo cosa accadrà ragazzi e ancora una volta se vedete appunto se volete se volete dedicarvi anche alle cripto a tempo pieno come sempre vi lascerò anche il link nella descrizione del video e quindi assicuratevi di farlo. E molti mi hanno chiesto appunto se è possibile fare appunto candidarsi in lingua italiana purtroppo questa posizione è soltanto in lingua inglese bisogna essere fluenti in lingua inglese per appunto si effettuare questo lavoro. Adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quale pensate che sarà il punto più alto per Bitcoin quest'anno fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori e giusto per chiedere basta inviare il portafoglio soltanto una volta anche se si risponde a più domande o più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video. E come sempre grazie mille per la visione di questo video e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti.